Dal 16 al 20 ottobre un festival per accendere il riflettore sulla disabilità e parlarne con un linguaggio contemporaneo fuori dagli stereotipi. Giunge alla terza edizione il Capability Festival, nato da un'idea dell'assessore al welfare Luca Trapanese. Una comunicazione positiva sulla disabilità grazie a un contenitore speciale di iniziative che punta a cambiare la prospettiva della disabilità guardando alle specifiche capacità dei singoli considerandole non un problema ma come risorsa per l'intera comunità. Ascoltiamo l'assessore al welfare Luca Trapanese. In particolare quest'anno affronteremo l'autismo e caregiver e sibling, cioè quando sono genitore di un bambino disabile o quando sono fratello di una persona con disabilità. Lo faremo, come ho detto, in chiave moderna, cioè parlando da un punto di vista positivo della disabilità. Per questo Capability. Partiamo dalle capacità di ognuno di noi per raccontare quello che sappiamo fare e cerchiamo di istruire e informare la società che la disabilità non è un problema ma può essere una grande opportunità. Talk nelle scuole condotti da influencer nazionali con migliaia di followers capaci di catturare l'attenzione dei ragazzi in loro coetanei con slang simili e linguaggi innovativi, positivi nella narrazione della disabilità. Una città, quella di Napoli, che sta facendo passi avanti sotto l'aspetto della disabilità, come spiega il sindaco Gaetano Manfredi. Uno sforzo al punizio economico per garantire un miglioramento dei servizi, rimettere ordine in situazioni che erano molto confuse, anche nel passato, quindi fare un sistema più organizzato che è fondamentale per migliorare la qualità dei servizi. Siamo consapevoli che c'è ancora un percorso importante da fare, però sono stati fatti dei passi in avanti significativi. Una visita speciale si terrà al MUSAP, Circolo Artistico Politecnico di Piazza Trieste Trento, dove gli allievi della Apple Academy sperimenteranno dal vivo per un pubblico di visitatori con disabilità visiva la funzionalità della loro app Parts. Ascoltiamo Giuseppe Gargiulo della Apple Academy. Attraverso uno studio abbiamo capito che i ciechi hanno un senso che è quello dello spazio che è il più sviluppato e grazie al quale riescono a formare una rappresentazione spaziale del mondo e quindi i modelli mentali più accurati del mondo rispetto a quelli che avrebbero con gli altri sensi. Per cui la nostra app si focalizza proprio su questa loro particolarità e gli permette attraverso un cellulare di esplorare le opere d'arte con ovviamente dei meccanismi implementati all'interno del prodotto.